Terza edizione del festival incontri organizzato e ideato da Vito Rizzo qui al mio fianco insomma una terza edizione davvero ricca di ospiti con un tema importante quello della donna tante le presenze e tanti telespettatori che hanno seguito in diretta questa bellissima iniziativa allora tracciamo il bilancio di queste tre giornate come è andata è andata andata bene perché le preoccupazioni erano tante anche rispetto all'aspetto organizzativo invece siamo riusciti ad organizzare bene la piazza con il distanziamento con gli ingressi separati abbiamo avuto numeri importanti tantissimi contatti visualizzazioni sui social attraverso i vari rimandi che abbiamo fatto da Cilento Channel alla pagina dell'azione cattolica alla pagina di incontri quindi abbiamo visto che realmente tante persone poi hanno potuto interagire nel corso della serata quindi con persone ci hanno seguito anche dall'estero questo ci conferma che l'idea del del festival è un'idea che funziona il tema di quest'anno è stato il tema della donna e devo dire che anche poi riscontri che ci sono stati c'è stato un filo conduttore comune delle serate e una valorizzazione importante del ruolo della donna ed è bello che questo nasca all'interno della chiesa è stata una bellissima testimonianza in particolare di lina morcos del movimento dei focolari lei viene da dalla giordania e ha origini palestinesi e tra l'altro abbiamo affrontato questa giornata proprio al ridosso di della tragedia che ha coinvolto beirut la prima sera la professoressa cirella una biblista che ha parlato appunto della donna nell'antico testamento la seconda sera la teologa l'orella parente che ha parlato della figura di maria in una maniera anche molto molto affascinante e particolare poi abbiamo concluso con don emilio salvatore un altro biblista che ci ha parlato del rapporto di gesù e le donne ma poi quella tavola rotonda è stata chiusa dalla professoressa pina de simone che è una teologa bravissima che coordina la specializzazione in teologia fondamentale della sezione san luigi della facoltà di napoli quindi realmente ha saputo poi raggruppare tutti tutti gli aspetti poi ci sono stati momenti anche di di spettacolo grazie a ammedeo giordano grazie ad enrico giuliano poi la chicca è stata l'intervista fatta dalle ragazze della azione cattolica ad antonia salzano quindi la mamma del beato carlo cutis questo è anche un un contributo importante per conoscere la figura di carlo ovviamente il gruppo incontri al lavoro per la quarta edizione che si svolgerà nel 2021 le date saranno il 3 il 4 il 5 agosto anche l'anno prossimo il tema sarà la giustizia quindi un altro tema delicato importante da affrontare con molta consapevolezza e speriamo anche quell'occasione di portare degli ospiti che sapranno sicuramente accompagnarci in una lettura di questo tema la giustizia che troppo spesso viene invece strumentalizzata invece capiremo tante cose con questo tema affrontato in una di una maniera nuova grazie 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 grazie